E voglio quindi cominciare qui e su questo punto dicendo che questo è stato un grande risultato, un risultato importante, figlio di un lavoro collettivo, figlio del lavoro di questi anni. E posso soltanto permettermi di segnalare con grande forza e con grande importanza che questo riconoscimento possiamo rovilarlo in un attimo. Basta che buttiamo via la fatica e la stabilità che abbiamo riconquistato faticosamente e ritorniamo facilmente dentro una condizione di grandissima difficoltà. Lo dico in particolare oggi, in un giorno nel quale abbiamo visto e toccato con mano cosa vuol dire che i nostri tassi di interesse, invece di continuare a scendere, come hanno fatto nei mesi scorsi, continuano a soffrire, a soffrire sul peso dell'instabilità politica.